Direi un'ottima prestazione, una vittoria che comunque serviva per il morale, per partire bene in questo girone anche se sappiamo si è già qualificato in virtù di essere paese ospitante. Raccontaci un po' che Italia-Grecia è stata. È stata convinta una partita a Tosta, sono una squadra molto buona. Ovviamente noi, è vero, siamo già qualificati, però volevamo dimostrare comunque questo. Ci meritiamo un posto all'Europeo e in tutte queste partite, è vero, non sono per la qualificazione, però sono per il ranking dei gironi e quindi sono comunque partite importanti che vogliamo giocare al massimo insieme.